buongiorno oggi vi presentiamo questa mazda cx3 benzina cambio manuale cilindrata 2000 allestimento exeed questa significa cerchi a 18 pollici sensori parcheggio sia anteriori che posteriori sistema keyless con la chiave guardate gli interni molto belli pelle e tessuto scusateci ce lo fa ma la vettura è nuova non è un chilometri zero è nuova comandi al volante con il controllo di tutti i sistemi per cui scontrolli viva voce bluetooth e radio lei l'assist controllo pressione pneumatici luci all'attivazione automatica specchietto interno foto cromatico climatizzatore automatico con comando manuale come potete vedere c'è anche lettore cd doppia presa usb tutta la console per il controllo del sistema multimediale strumentazione sportivissima in stile mazda vi aspettiamo qui in autosmine per venire a vedere e provare questa fantastica cx3 motorizzazione benzina ovviamente già euro 6 ultima certificazione